problema tecnico. Ok, allora. Ottimo, solo che ho problemi. Ok, lascio così la presentazione. Ci troviamo quindi scuola di scienze politiche, dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali e eh diritti umani. Ci troviamo a Padova in Via del Santo numero ventotto. Al al dipartimento di scienze politiche relazioni internazionali e diritti umani afferiscono i corsi triennali di diritto dell'economia che è l'unico che ha sede a Rovivo e eh invece hanno sede a Padova scienze politiche relazioni internazionali e diritti umani, scienze politiche e servizio sociale. Le nostre sedi a Padova sono in centro, eh le aule sono in Via del Santo, in Via Cesarotti, al Palazzo Bo, specificatamente Aula L e al Teatro Ruzzante. Per quanto riguarda diritto dell'economia si tiene nella sede distaccata al CUR a Rovivo. Allora in questa presentazione noi vi daremo alcune informazioni rispetto all'iscrizione, test d'ingresso, a come si svolgono le lezioni, eh come è soddiviso l'esame, l'anno accademico e informazioni inerenti agli esami. Allora per quanto riguarda l'iscrizione sostanzialmente abbiamo due momenti. Una prima fase di pre-immatricolazione che è fondamentale e necessaria per sostenere la prova di ammissione. Allora, nel caso dei corsi a numero non programmato, quindi scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani e scienze politiche, eh vediamo che dovrete sostenere un test e non lo specifico il talk, eh il cui esito non è vincolante. Quindi anche se avete un esito negativo potrete andarvi a immatricolare successivamente. Dovete solamente adempiere ai cosiddetti OFA che sono degli obbligo informativi aggiuntivi che vi spiegheremo successivamente. Le informazioni comunque inerenti alla pre-immatricolazione le trovate sull'avviso di ammissione. Per quanto riguarda servizio sociale è, ehm, la prova di ammissione è vincolante in quanto c'è un numero programmato di novanta posti. Eh il test è sempre riferito al talk e eh rispetto comunque alle modalità di assegnazione, posti, eccetera, ne parliamo dopo, ma in ogni caso trovate eh tutto scritto nel nell'avviso di ammissione. Diritto dell'economia ha ha un 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 talk diverso eh che vediamo comunque adesso e eh anche in questo caso è a numero non programmato quindi l'esito non risulta essere vincolante per l'iscrizione. Allora il talk su che vale per tutti i corsi tranne diritto dell'economia è eh formato da ottanta acquisiti articolato in quattro sezioni, compressione di lingua italiana eh conoscenze competenze acquisite negli studi e ragionamento logico e lingua inglese. Dura centoquindici minuti e questo è il calcolo del punteggio valido anche per il talk disferito alla scuola di diritto, al corso di laurea di diritto dell'economia che il test invece risulta avere 66 quesiti articolati in matematica, logica, comprensione verbale e inglese e il tempo è un po' meno centocinque minuti. allora fatto il test c'è la fase di immatricolazione che è la iscrizione vera e propria a quello che sarà il corso di laurea da voi scelte comunque a ehm all'università di Padova. Ricordiamo che per procedere all'immatricolazione è necessario pre-immatricolarsi e fare il test sia che quello sia vincolante che non sia vincolante. Per quanto riguarda eh i corsi di scienze politiche, eh scienze eh scienze relazionali ehm scienze politiche, giuridiche, studi internazionali e diritto dell'economia abbiamo detto che il test non risulta essere vincolante. Se ha un esito negativo voi vi scrivete quindi vi matricolate lo stesso ma dovrete eh adempiere a quelli che sono gli obblighi formativi aggiuntivi entro il trenta settembre dell'anno dopo. Quindi del fine primo anno di iscrizione. Se non a questi OFA voi non adempiete dovete ripetere il primo anno ehm sostanzialmente è un test che voi dovrete fare fra giugno e settembre che dura trenta minuti. Dovete rispondere a dieci domande e la sufficienza si ha con sei e quindi si si passa l'esame. Per quanto riguarda il test invece di servizio sociale. Se ricadete dentro la graduatoria dentro i primi novanta posti procedete con l'immatricolazione entro i termini instabiliti. Altrimenti se siete fuori novanta posti ci sarà una prima riassegnazione e successivamente i pescaggi. Tutte le informazioni anche in questo caso le troverete all'interno dell'avviso di ammissione. Ok ora precediamo a darvi alcune informazioni inerenti ai siti piattaforme importanti, modalità di esame e lezioni. Allora eh importante il sito di dipartimento www.spg.unipd.it qui vi abbiamo presentato la guida rapida per lo studente che incontrate andando sul menu didattica e poi guida rapida studente e ehm risulta molto funzionale perché avete comunque risposte rispetto a quelle che sono le informazioni più rilevanti e anche più richieste dagli studenti. Successivamente un altro sito importante è questo che risulta essere il portale studenti dove potete trovare informazioni relative a orari delle lezioni, calendari, appelli, esami e anche occupazione delle aule. E poi passiamo a dirvi com'è suddiviso l'anno accademico. Allora il nostro anno accademico è suddiviso in un primo semestre e in un secondo semestre. Il primo semestre è da ottobre a gennaio e il secondo da marzo a giugno. Durante i semestri eh farete delle lezioni dei corsi che vengono erogati e ogni corso può valere più o meno dei cosiddetti CFU ovvero i crediti formativi universitari. Eh questi crediti vengono dati in base alle ore che voi dovreste derificare per lo studio dell'esame e in base alle ore delle lezioni. specifichiamo che eh le lezioni non hanno un'obbligatorietà della frequenza nel nostro dipartimento, sono caldamente consigliate, vero anche che ci sono dei delle delle attività obbligatorie per esempio a servizio sociale c'è un tirocino obbligatorio ma anche nelle altre treennali. Per quanto riguarda gli appelli d'esame eh sono eh tre sessioni una invernale, un'estiva, un'attunnale chiamata anche di recupero. In ogni sessione quindi tra gennaio e febbraio, tra giugno e luglio, tra agosto e settembre avrete due appelli disponibili per ogni corso che ehm esiste all'interno del vostro corso di laurea e tra il primo appello e il secondo appello devono almeno passare quattordici giorni. Ok. Arriviamo adesso a una tematica abbastanza importante specialmente per quelli che sono i corsi più inerenti a scienze politiche ovvero gli esami di lingua. Allora eh per quanto riguarda i corsi di scienze politiche, scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani a entro il secondo anno voi dovete presentare in qualche modo che avete un livello B2 in inglese. Questa idoneità di B2 la potete presentare in due modalità o presentare un certificato che voi di cui voi siete già in possesso e all'interno del sito del CLA del Centro Linguistico di Ateneo vedete già quali possono essere i certificati che vengono riconosciuti dall'Ateneo oppure potete fare un test eh al Centro Linguistico di Ateneo durante il primo anno di livello B2 e nel momento in cui la passerete avrete queste idoneità. Risulta fondamentale e necessaria per frequentare l'insegnamento di inglese al secondo anno. Ok. Invece per quanto riguarda servizio sociale è prevista solo un'idoneità di tre CFU eh di livello B1 in una delle quattro lingue elencate quindi inglese, francese, tedesco, spagnolo. Anche in questo caso se avete già certificato basta presentarlo e verrà riconosciuto oppure eh si va al Centro Linguistico di Ateneo, si fa il test e si procede per avere l'idoneità. Allora eh vi presentiamo poi la pagina Moodle che è una piattaforma di Ateneo che forse alcuni di voi conoscono già dalle superiori. Eh in questa piattaforma mh ci sono mh sostanzialmente informazioni e materiale di supporto alla didattica per i diversi corsi che voi frequenterete. È una modalità anche per interagire con gli insegnanti e successivamente è stata fondamentale anche in questo periodo di pandemia. Allora infine vi diamo due direttive anche rispetto al nostro ufficio. Noi come avrete capito siamo degli studenti magistrali eh che studiano uno dei corsi magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche. Eh diamo informazioni in merito a pre-immatricolazioni, immatricolazioni, conseguimento titolo ma anche chiarimenti sull'offerta della didattica, sui corsi di laurea, lingue straniere, i piani di studio. Ci trovate in presenza in Via del Santo oppure abbiamo un contatto telefonico, una mail oppure ci potete trovare anche su Zoom. Tutte le indicazioni le trovate comunque all'interno del sito di del Dipartimento. Abbiamo anche una pagina Instagram e una pagina Facebook. Quando ci trovate il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle dieci alle dodici e trenta oppure il mercoledì pomeriggio dalle quattordici alle sedici. Eh vi diamo queste informazioni perché perché potete rivolgervi anche voi allo sportello. Quindi ora noi lasciamo spazio a quelle che sono le vostre domande. Detto questo, se non riesciamo a rispondere a tutto oppure se avete ancora altri dubbi, potete tranquillamente contattarci in questi orari di ufficio e noi vi eh diamo tutte le informazioni necessarie. Grazie.